Buon pomeriggio da Maiori, siamo venuti qui al porto di Maiori per constatare in prima persona e in esclusiva per Positano News a che punto sono i lavori di rifacimento qui al porto dopo i danni che ha subito lo scorso dicembre con le forti mareggiate. Qualcosa è iniziato, i lavori sono iniziati, i rifiuti sono stati rimossi, qui però è da rifare ancora questo muro. Questa è la scala che porta al sorarium che è stato sistemato la scorsa estate. Speriamo quindi che per la prossima estate tutto sarà tornato alla normalità e quindi qui il porto sarà di nuovo in condizioni normali. A presto per aggiornamenti e tutto dal porto di Maiori, buona serata.